L'orologio da polso prima luna è un'opera d'arte che fonde l'eleganza classica con l'innovazione contemporanea. La storia della prima luna è intresa di raffinatezza e dedizione all'alta orologeria. Dall'attenta selezione dei materiali alla maestria artigianale, ogni dettaglio riflette l'impegno verso la creazione di un orologio senza tempo. Sin dal suo debutto, la prima luna ha catturato l'attenzione degli amanti dell'orologeria con il suo design sofisticato e il suo carattere intramontabile. Il design della prima luna è un equilibrio armonioso tra linee morbide e dettagli raffinati. La cassa, spesso sottile e delicatamente curvata, si adatta con grazia al polso, garantendo un comfort ottimale. Il quadrante, arricchito da indici o numeri romani o arabi, riflette una leggibilità impeccabile. Le lancette, sottili e aggraziate, scorrono con la precisione di un meccanismo svizzero di alta qualità. Molte celebrità di spicco hanno scelto la prima luna per esprimere il loro stile e la loro eleganza. Da attrici a icone della moda, molti volti noti hanno reso omaggio a questo orologio da polso. Indossare una prima luna è un modo di dichiarare il proprio gusto raffinato e il desiderio di sottolineare l'eleganza senza tempo. La prima luna non è solo un simbolo di stile, ma anche un'opera di ingegneria orologera avanzata. L'uso di materiali pregiati e movimenti di precisione garantisce affidabilità e funzionalità al di là delle aspettative. Con l'innovazione come filosofia guida, la prima luna è riuscita a stabilire record di resistenza e accuratezza nel mondo dell'orologeria di lusso. In sintesi, la prima luna rappresenta una combinazione irresistibile di luminosità e stile. La sua storia di raffinatezza, il design distintivo e le caratteristiche innovative la rendono un'icona senza tempo. Scegliere un orologio prima luna non è solo un investimento nell'alta orologeria, ma anche un tributo all'arte orologiaia e all'eleganza senza tempo. Con la sua eredità, il design affascinante e l'impegno verso la perfezione, la prima luna continua a brillare come una stella nel firmamento dell'orologeria di lusso. Optare per una prima luna è abbracciare la bellezza intramontabile e l'artigianato d'eccellenza.